signori oggi bike park in innsbruck andiamo a vedere un po la jumpline già vedo un doppio la bisogna darci un occhio ok la shark ma le torcino le rampe sono belle incazzate hanno un po di case pad questo qua è un po più doppioso no quella là questa qua l'avevo vista porca troia se è verticale no voi non avete idea poi la secondo me l'hanno appena rifatta questa qua è un po' too much ciobo non ha le skills hippato verso destra ma cosa c'è? sempre una una shark barra hip bellissima sta sponda fare il toncino ah che adesso sono incazzatissime sono veramente incazzate qua ce n'è uno dritto ho una shark un doppietto qua oh ma ci sono le rampe che sono dritte double serts ah io vedo cosa non ho usura qua ho un po' questo ho un po' di questo è 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 un po' di si che figata no dovevo mandare anche questo ok va bene diciamo che come secondo giro va benissimo minchia sì le rampe sono incazzate e gli atterraggi sono incazzati che in realtà è un bene un building verso da quello che sono abituato vediamo di farli tutti stavolta ok wow 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 let's go baby mamma mia mamma mia mamma mia Grazie a tutti.